Eccoli, ciao, Petrice Pasquaila, Franco Garracina, Claudia Arvati, eccoli, andiamo! And when you play the rock music, get it in the swing, you come and look for a gig, and when you get the chance, you are the dancing queen, young and sweet, only seventeen, dancing queen, feel the beat, pluck the tambourine, oh yeah! You can dance, you can jive, have in the time of your life, ooh, see that girl, watch that scene, she keeps the dancing queen. I go away, you will tell me so. I go away, you can say, turn it forward, you are my talk, and in one name you know. Say, yeah! You are my everlasting love. What you want, baby, I've got it, what you need, you know I've got it, what I'm asking is for a little respect when you come on. Hey, baby, when you come on. Respect. Respect. R-E-S-P-C-T, fight out what I mean to me. R-E-S-P-C-T, shake up, kiss me. Suck it. Suck it. Suck it to me. Suck it to me. Suck it. Suck it. Suck it to me. Suck it to me. Suck it to me. Hey, 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 hey! Oh, freak out! The freak says ship. Freak out! Young and old are doing allergy. Just one try and you two will be so. It's got a freak, you're doing allergy. I finalisti di The Voice Senior hanno acceso lo studio uno di mia teurama Ciao a Beatrice Mosquali Grazie Dove l'hai lasciato? Eh? Dove l'hai lasciato? Dov'è? Piero è a casa perché questa sera il sindaco di Asti, noi veniamo da Asti, gli darà un premio molto importante che dà la città di Asti a Piero per il percorso musicale che ha fatto Abbracciamo Piero, grande protagonista anche lui The Voice Senior, Claudio Arvati Ciao Claudio, abbiamo ritrovato la Franco Carnacina A Franco ma ci siamo adesso, c'è l'anteprima tra pochi giorni Esatto, il 12 maggio al Teatro Massimo Troisi di Napoli, aspettiamo a braccio aperto tutti i napoletani che ci hanno voluto bene durante il percorso di The Voice Con noi se me lo consenti Marco, vorrei annunciare anche gli altri nostri strepitosi colleghi Ti aiuta anche Claudio eh Allora, Russell Russell Oh, abbiamo avuto qui l'altra volta Cosetta Gigi Cosetta Gigi Walter Sterbini Sì Poi Piero Cotto E Roberto Baracelli Ma proprio tutti i più bravi eh Questo quindi ci accompagnerete per tutta l'estate eh Sì, penso che andremo avanti anche questo inverno, anzi no penso sicuramente ma nei teatri E poi se Dio vuole sembra che ci porteranno in giro anche per tutto il mondo perché questa è la novità che ci è stata comunicata Altro che c'è sempre, come nell'amore, c'è sempre una stagione anche per l'arte e non è l'età che conta Voi siete la dimostrazione Grazie Mauro, grazie Grazie, ciao Grazie Marco, grazie Grazie a tutti E dice Pasquale, la frazione di ragazzi di Arbati Ciao, ciao, presto Grazie, ciao Grazie a trovarci Grazie